all'ampliamento della discarica di Guardia Perticara, una vicenda che va avanti da anni e che ha suscitato non poche polemiche. Ce ne parla Grazia Napoli. Sarà ampliata la discarica di Contrada la mattina a Guardia Perticara con un quinto lotto di 547 mila metri cubi. È stata approvata la delibera dell'Aggiunta regionale. La discarica a poco più di un chilometro da uno dei più bei borghi d'Italia, già bandiera arancione del Touring Club italiano, raddoppierà la propria capacità complessiva fino a circa un milione e duecentomila metri cubi per contenere anche rifiuti speciali ma non pericolosi tra cui gli scarti delle lavorazioni petrolifere del centro olio di Tempa Rossa. Tante le voci contrarie al raddoppio levatesi in questi anni, cittadini, politici, comitati. Lo stesso Consiglio Comunale di Guardia aveva detto no. Invece è arrivato prima il via libera alla valutazione di impatto ambientale, ora la delibera di Giunta. Critico il comitato salva guardia sui tempi d'approvazione e sull'operato anche del precedente governo regionale che a iter approvativo avviato aveva legiferato stabilendo che per gli ampliamenti si potesse prescindere dalle distanze dal centro abitato. Olebica sui commenti pubblici. Trasformare la montagna fumante di rifiuti che presto solgerà al ridosso del comune di Guardia Perticare in un nuovo attrattore turistico della regione. La proposta amaramente sarcastica arriva da un gruppo di cittadini che ribadisce il proprio no al progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali che nei giorni scorsi ha ricevuto un nuovo via libera dalla regione Basilicata. Una piattaforma posta ad una distanza di sotto dei mille metri dal centro abitato e di una posizione ben visibile dal centro storico. Per la verità l'impianto a parte l'ampiamento è sempre stato ben visibile dal borgo antico. Le nostre uniche preoccupazioni sono innanzitutto un danno ambientale che si potrebbe verificare per il nostro comune ma non solo, anche per i comuni limitrofi e poi anche dal punto di vista turistico. A fianco dei cittadini lo stesso sindaco di uno dei borghi più belli d'Italia e anche bandiera arancione del Touring Club visitato da migliaia di persone ogni anno. Questo è un iter che è iniziato nel 2017. Purtroppo dopo che ci sono state diverse osservazioni abbiamo fatto riscontrare che purtroppo non c'era la distanza dal centro abitato e quindi abbiamo detto no con una delibera di giunta comunale. L'ultima cosa, come vi continuerete ad opporvi? Sicuramente adesso come comune io sto facendo farmi un parere preventivo per vedere sostanzialmente se ci sono elementi per poter impugnare la delibera di giunta regionale.